La prima realtà che ho incontrato è stata con il centro del CEIS della Calabria e l'impressione è stata bellissima, so l'esperienza del CEIS cosa vuol dire, ma l'ho vista qui da 40 anni radicata e parlando con un ragazzo, anzi ascoltando un ragazzo che ha finito il percorso e uscirà, beh, come fare a non emozionarsi e come dire, allora ne vale la pena, vale la pena spendersi con fatica, nell'impegno, senza illudersi, con molta umiltà, ma ne vale la pena, perché anche fosse soltanto per Angelo, si chiama questo ragazzo, anche solo per Angelo, questi 40 anni sono stati spesi bene, questa è la logica che deve guidare anche una comunità cristiana. Dunque, intanto porto la mia consapevolezza di questo momento drammatico, direi generale, che tocca l'umanità intera e la fa straordinariamente solidale in questa pandemia e se si può così fare un auspicio è che si impari da questa pandemia alla solidarietà, invece dovrebbe governare in positivo, in modo che in ogni parte della terra le persone possano avere l'opportunità di vivere dignitosamente la propria vita. Quindi l'attenzione, il pensiero anche oggi va alle tante persone malate, sofferenti, alle tante persone che hanno perso la vita per questo Covid, che è veramente qualcosa di drammatico. comeppure anche, lo dico qui in questa terra in cui sappiamo, anche il sistema sanitario ha le sue difficoltà, eccetera, anche per le persone che lavorano in prima linea, che sono gli operatori sanitari, certamente, anche a loro va il pensiero perché stanno reggendo una situazione che è veramente delicata e drammatica. Io non porto soluzioni, io vengo per mettermi qui, ripeto, immergermi in questa realtà e cercare di vivere la compienezza, certamente portando la forza della speranza cristiana. Questa deve essere la nostra carta vincente come credenti e anche come Chiesa.